Ingredienti Dosi per 4 persone 500 grammi di fusilli 400 grammi di passato di pomodoro 4 cucchiai di panna 3 cucchiai di yogurt 1 spicchio d'aglio 3 foglie di menta Dado 1 cucchiaio di origano secco 6 cucchiai d'olio e 30 grammi di parmigiano Preparazione Soffriggere l'aglio nell'olio Unire il pomodoro La panna Lo yogurt Il dado e la menta Cuocere a fuoco dolce per 5 minuti Unire l'origano e cuocere per altri 10 minuti semi coperto Lessare la pasta Condirla con la salsa Con il parmigiano grattugiato e servire Il piatto è pronto Buon appetito Unire l'anima Unire l'anima Unire l'anima Unire l'anima